Pensiero del giorno. Sono degno d'amore adesso, così come sono. Ho amici meravigliosi che mi vogliono bene e mi rispettano. E sono molto apprezzato. Celebro le qualità che mi contraddistinguono. Celebra la tua unicità. Il tuo spirito è una cosa sola con Dio e con tutti gli altri. Ma nel mondo fisico ha qualità e talenti unici per adempiere allo scopo della tua vita. A volte ti senti conflitto con le altre persone e di tanto in tanto ti senti perfino immarginato e incompreso. È in questi momenti che la tua autostima inizia a vacillare. Noi angeli siamo qui per assicurarti sul fatto che non c'è niente di sbagliato in te. Solo perché sei diverso dagli altri si tratta di differenze naturali. Oggi celebra la tua unicità. Più riconosci le qualità che ti contraddistinguono, più ti senti a tuo agio con te stesso e con gli altri. La caratteristica più attraente per la maggior parte delle persone è sentirsi bene nella propria pelle. Non devi cambiare per adattarti agli altri o sentirti accettato. Celebra il fatto di essere te stesso.